Io dico una cosa molto semplice, è un voto che si sarebbe potuto molto facilmente evitare. Io francamente non ho capito perché Salvini si sia così arroccato nella difesa di Siri quando poteva tranquillamente chiedergli di fare un passo di lato, di tornare a fare il senatore, mica lo doveva cacciare per strada. Ha dei sospetti, pensa che Siri è più cruciale di quello che noi possiamo immaginare nella Lega? Qualcosa di strano c'è perché avrebbe eliminato qualsiasi ombra sul governo ma sul suo partito. C'è una mossa insensata durante una campagna elettorale. Cioè in Italia abbiamo un problema gigantesco che riguarda la corruzione. C'è un caso di corruzione che riguarda un esponente della Lega e fa parte del governo. Mettilo da parte ed eliminiamo qualsiasi ombra. Perché vuoi far pensare agli italiani che vuoi difenderlo con delle ombre così gravi? Forse perché esattamente come Giorgio Mulè Salvini è un garantista. Giorgio Mulè però è un turpo garantista.